Un avviso navigante rivolto a tutti, anche al Presidente del Consiglio, che oggi torna ad essere attaccato a De Cinque Stelle. Sul blog Grillo mette in pagina un dialogo immaginario tra Renzi e un imprenditore suicida per debiti. E di fronte al Premier, che parla di 108 mila posti di lavoro in due mesi, Di Maio su Facebook scrive «Spero che non si sia messo in testa di fregare anche gli scout». Insomma, basta annunci e basta insistere sul tasto delle riforme costituzionali. All'ennesima testimonianza di come la classe politica italiana sia distante dai problemi dell'Italia. Gli italiani non hanno i soldi per andare in vacanza, non hanno un lavoro. Quello che è urgente, che è importante in questo momento, non è certo una riforma del Senato, ma delle riforme economiche.